Gentili telespettatori, buona giornata. Saviano, lo scrittore, rinviato a giudizio dopo la puntata di Piazza Pulita sulla 7 sul tema dei migranti. Si era riferito alla leader di Fratelli d'Italia chiamandola Bastarda. E' stato rinviato a giudizio dal giudice per le udienze preliminari di Roma con l'accusa di diffamazione aggravata nei confronti della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Era il dicembre del 2020 sul tema dei migranti. Il giudice ha fissato la prima udienza del processo per il 15 novembre del 2020. Saviano mi puntava il dito in faccia dicendo non vi mollo, non vi mollo, non credo sia un comportamento consono a un'aula di tribunale e in tanti anni da avvocato non mi è mai capitato, afferma l'onorevole Andrea del Mastro delle vedove legale di Giorgia Meloni. Il giudice ha definito esorbitante rispetto al diritto di critica politica l'epiteto Bastarda. Spiega mentre Saviano in aula ha rivendicato le sue parole. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.